Smog e caldo tropicale sono questi i dati salienti che emergono dalle analisi della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo che dimostrano come il 2017 sia stato l'anno più bollente dal 1899 a questa parte. Con una temperatura media di 16,1 gradi, l'anno che si è appena concluso ha eguagliato solo il Torri 2015. Se si esclude settembre, tutti i mesi hanno chiuso con temperature ben al di sopra delle medie tipiche stagionali mettendo a segno un più 2,4 gradi complessivo rispetto alla media del trentennio 1961-1990. I mesi record sono stati marzo, giugno e agosto, solo 591 i millimetri d'acqua caduti in 12 mesi contro gli attesi 900, quasi nulla le precipitazioni a gennaio e solo 1,5 millimetri di pioggia caduti nei mesi di solito piovosi come ottobre e maggio. Secondo le postazioni di rilevamento della fondazione, Milano potrebbe essere così mappata. Caldo tropicale in centro storico, il polo nord è nella zona di San Siro Trenno, dove si sono registrate 31 giornate di gelo. In Statale, Bocconi, in via Sarpi, i giorni rigidi sono stati due terzi in meno. In Chinatown di Bicocca si sono però anche sforati i 40 gradi d'agosto. A vederlo in questo modo potrebbe sembrare quasi uno scenario paradisiaco, ma i milanesi devono invece tenere ben presente che il caldo torrido significa anche altissimi i livelli del pericolosissimo smog. Secondo i dati di Arpa, i giorni da Bollino Nero a Milano sono stati 96 a dare il via libera a polveri sottili e batteri e anche la siccità eccessiva che causa il ristagno dei veleni. Grazie a tutti.